Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come velocizzare, come migliorare così le prestazioni su Photoshop quindi in questo caso se ti ritrovi a modificare così un'immagine e poi comincia a laggare oppure comincia a caricare lentamente qualsiasi cosa che tu fai su Photoshop vuol dire che non ha abbastanza, quindi se hai anche un buon PC non hai modificato al meglio queste impostazioni tipo per esempio se andiamo un attimo su modifica, preferenze, andiamo su generali, andiamo su dischi memoria virtuale, rimuovi così il disco da disco C e fai rimanere gli altri dischi, se disponi di altri dischi metti gli altri e rimuovici, se no tienici, ok ora andiamo su prestazioni, RAM disponibile, qua dice 29.939 MB, io ho all'incirca 32 GB di RAM quindi tasto destro su Start per vedere quanta RAM hai, quindi vai su gestione attività, vai su prestazioni e qui c'è scritto memoria RAM vedete 31.9 GB io ho messo, consente a Photoshop di usare 26.940, qui metti 90% quindi metti 90% della tua memoria RAM stati, storia metti 50%, livelli cache metti 6%, dimensione cache, porzione metti 1024K usa processore grafico, quindi ho la mia scheda grafica 1660 super e in attivo metterò su metodo disegno avanzata e fai ok e migliorerai così le prestazioni su Photoshop invece se hai altri problemi puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare altri guide a riguardo sul tuo problema quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao